bacini acquaroli annuncia il raggiungimento di 11.000 inoculazioni giornaliere danneggiava tombe al cimitero di sasso corvaro i carabinieri di rubino rintracciano il colpevole giù i furti sui sequestri di sostanze l'attività della polizia nel 2020 weekend amaro per vispesero e alma juventus fano carpegna basket vince ma arriva al ricorso una buona serata a tutti i telespettatori di rossini tv il canale 633 del digitale terrestre bentornati a un nuovo appuntamento con il nostro telegiornale rossini news in apertura parliamo degli aggiornamenti sanitari riguardanti le vaccinazioni sul territorio marchigiano perché il governatore della regione marche francesco acquaroli ha comunicato attraverso la sua pagina facebook il raggiungimento a livello regionale delle 11.000 inoculazioni in una giornata dato raggiunto che è stato proprio in questo fine settimana vediamo quindi questo primo servizio continua la fase di discesa del contagio nelle marche anche se con un numero quotidiano di nuovi positivi ancora alto e la pressione ospedaliera ancora da ridurre inizia così l'aggiornamento fornito dal governatore della regione francesco acquaroli sull'andamento del covid nelle marche dopo la prima settimana di rientro in zona arancione le comunicazioni del presidente si sono poi spostate sul tema dei vaccini nel fine settimana grazie al lavoro dei punti vaccinali territoriali ospedalieri e dei medici di medicina generale sono state raggiunte le 11.000 inoculazioni giornaliere vaccini che anche a pesero non si sono fermati nel fine settimana e che hanno visto salire al 75 per cento la percentuale dei medici di base impegnati nella campagna di somministrazione da oggi inoltre sono passate da 4 a 6 le postazioni di medici presenti all'ex ristò sede vaccinale pesarese a livello regionale non si è fatta attendere invece la risposta del commissario straordinario all'emergenza covid il generale figliuolo alle richieste giunte dalla consigliera del partito democratico michaela vitri che da settimane sottolinea la necessità di implementare l'umor di sedi vaccinali per la provincia pesarese ho iniziato ad avanzare richieste con un'interrogazione l'11 febbraio in consiglio regionale a cui l'assessore saltamartini non ha saputo dare una risposta e continuiamo ad avere da due mesi solo tre punti vaccinazione nella nostra provincia pesaro fanno urbino mentre il decreto sostegno ne prevede uno ogni 40.000 abitanti quindi dovrebbero essere almeno il triplo oltre a quelli esclusivi per soggetti fragili come a fossombrone e a pesaro all'ospedale di muraglia il generale figliuolo ha assicurato che saranno aumentati e ai grandi hub saranno aggiunti dei punti minori mi auguro che avvenga più presto perché le lunghe distanze da percorrere in auto le code e gli assembramenti nei punti vaccinali davvero non sono più accettabili prossime ai nastri di partenza anche le somministrazioni in farmacia che dovrebbero prendere via entro un paio di settimane e quindi a conclusione del mese noi ci stiamo attrezzando insomma stiamo predisponendo sei sedi come farmacie comunali cinque a pesaro e una a gabice per poter fare un lavoro importante nel momento in cui si partirà siamo quasi in dirittura d'arrivo poi la partenza vera e propria della vaccinazione dipenderà dall'arrivo dei vaccini e della disponibilità dei vaccini crediamo così in maniera del tutto sensata che tra la fine di aprile e la metà di maggio si potrà partire stanno facendo la formazione i nostri farmacisti insomma le farmaciste in maniera quotidiana poi ci sarà un momento anche di formazione proprio sul campo nelle marche si sta decidendo di farla negli hub di vaccinazione è possibile come prevede il protocollo nazionale che è stato sottoscritto e che ogni regione poi farà proprio sta facendo proprio svolgere sia le vaccinazioni all'interno delle farmacie stesse oppure le farmacie potranno svolgere quel tipo di attività a farmacia chiusa cioè prima dell'inizio di orario di apertura o durante la pausa pranzo oppure nella parte serale o il sabato la domenica nel caso in cui le farmacie siano chiuse oppure si possono trovare anche locali esterni che siano nell'ambito di pertinenza della farmacia stessa in cui poter attrezzare veri e propri hub vaccinali ed è quello che in qualche modo noi farmacie comunali di pesero assieme a quella di gabizio stiamo cercando di fare la pagina degli aggiornamenti covid sul territorio regionale il servizio sanità della regione marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 1.810 tamponi 955 nel percorso nuove diagnosi di cui 413 nello screening con percorso antigienico e 855 nel percorso guariti con un rapporto positivi testati pari all'11,6 per cento numeri in calo quindi per i tamponi effettuati e anche per i positivi rintracciati nel percorso nuove diagnosi che a livello regionale sono 111 con 10 casi in provincia di pesero urbino 10 invece i nuovi decessi notificati ieri sera dal servizio sanità della regione nessuna delle vittime era residente nella provincia pesarese in primo piano anche la cronaca tombe imbrattate danneggiate foto delle lapidi scarabocchiate ma anche sottrazione di varia oggettistica sono solo alcune delle azioni di cui si sarebbe resa protagonista una persona di mezza età residente nella vallata del foglia e accusata di violazione di sepolcro villipendio delle tombe danneggiamento e furto aggravato i fatti su cui i carabinieri di urbino hanno iniziato ad indagare nell'ottobre del 2019 si sono verificati presso il cimitero di mercatale di sasso corvara auditore sette le segnalazioni ufficiali arrivate alle forze dell'ordine che grazie ad appostamenti e all'ausilio delle videocamere sono riusciti a risalire al colpevole che è stato poi denunciato parte dell'oggettistica sottratta tra cui lumini e statuette veniva poi ritrovata nei campi adiacenti al cimitero le indagini sono ora volte a identificare le motivazioni alla base di queste tristi azioni meno furti più sequestri di sostanze stupefacenti sono solo due dei dati che emergono dal bilancio dell'attività e del lavoro della polizia nel 2020 anno che a causa del covid ha stravolto anche il lavoro degli agenti impegnati ormai da diversi mesi sui controlli per il rispetto delle norme anti covid sentiamo quindi più dettagli in questo prossimo servizio si è ricordato sabato 10 aprile il 169esimo anniversario della fondazione della polizia di stato per il secondo anno consecutivo a causa dell'emergenza covid anche a pesaro la cerimonia pubblica ha lasciato posto ad un momento di raccoglimento più composto con la deposizione di una corona di fiori in memoria dei caduti della polizia di stato presso l'ufficio personale della questura al cospetto del prefetto di pesaro urbino vittorio la polla e del questore michele todisco accompagnati da una ristrettissima rappresentanza di poliziotti tutte le attività di polizia del 2020 sono state rimodulate a causa dell'emergenza sanitaria nell'ultimo anno da aprile 2020 al 31 marzo 2021 le oltre 9.300 pattuglie impegnate sul territorio provinciale hanno controllato oltre 88 mila persone e più di 58 mila veicoli controlli che solo in minima parte circa un centinaio di casi si sono trasformati in sanzioni per violazioni alle misure anti covid diverse le manifestazioni che hanno avuto origine dall'inizio della pandemia molte delle quali di protesta contro le chiusure imposte per la situazione sanitaria la maggior parte dei sit in si è svolta pacificamente e con un sostanziale rispetto delle regole anche grazie all'impegno della questura per gli oltre 1100 servizi di ordine pubblico nei quali sono stati impiegati più di 7 mila poliziotti per quanto riguarda la lotta alla criminalità dalla lettura dei dati emerge come le misure di vigilanza abbiano determinato un parziale decremento delle condotte criminali come testimonia per esempio il minor numero di reati contro il patrimonio e più nello specifico il dato dei furti quasi dimezzato rispetto all'anno precedente dai 1025 episodi registrati tra il 2019 e i primi mesi del 2020 si è passati ai 609 dell'ultimo anno con una conseguente diminuzione anche del numero di arresti e di denunce meno borseggi scippi e furti in abitazione o su autovetture dunque mentre risulta ancora significativa l'attività di prevenzione legata ad atti persecutori e di violenza di genere causati anche dalla forzata convivenza domestica 15 le misure cautelare eseguite fra divieti di avvicinamento o allontanamenti dalle case familiari numerose operazioni di polizia sono state portate a compimento anche per il contrasto al traffico di stupefacenti in tale contesto allarma l'esponenziale aumento dei sequestri registrato nell'ultimo anno di quelle che vengono chiamate droghe leggere con oltre 2300 grammi di marihuana sequestrati a fronte dei 435 del periodo relativo all'anno precedente sempre nel periodo compreso tra aprile 2020 e marzo 2021 l'ufficio immigrazione ha gestito le pratiche relative alla consistente popolazione di stranieri residenti in provincia oltre 21.000 persone rilasciando circa 6.000 permessi di soggiorno sono stati inoltre messi una settantina di provvedimenti di espulsione grande il lavoro anche dell'ufficio sanitario della questura di pesaro urbino che ha dovuto garantire il massimo livello di sicurezza per tutto il personale e lo scorso venerdì nell'ex chiesa di santa maria del gonfalone a fano si è tenuto l'importante convegno sul turismo organizzato da conf commercio marche nord al quale hanno preso parte anche diversi componenti della giunta regionale questa sera alle 21 e 15 potrete vedere lo speciale dedicato a questo evento con tutte le interviste ai protagonisti ma nel frattempo ne vediamo un estratto in questo prossimo servizio a pochi giorni dalla presentazione del piano trennale regionale per il turismo un'importante rappresentanza della giunta regionale ha presenziato venerdì presso l'ex chiesa di santa maria del gonfalone a fano al convegno sul turismo organizzato dalla conf commercio marche nord l'importante incontro ha posto dunque al centro del dibattito riguardante il rilancio post pandemia uno dei settori più colpiti dalle ripercussioni economiche del covid con la presentazione di idee progetti promossi in primo luogo proprio dalla conf commercio la prima conferenza sul turismo ma con una particolarità ed una novità presidente della giunta regionale con tre componenti della giunta quindi diciamo più di mezza giunta regionale che partecipano a un evento organizzato da conf commercio e conf turismo marche nord e questo intanto significa molto dal punto di vista della rappresentanza cioè c'è il riconoscimento del peso che la nostra organizzazione ha nell'economia turistica della nostra regione è anche una grande soddisfazione per il nostro mondo per la nostra associazione anche perché siamo all'inizio di un percorso di nuovo governo regionale ma anche di una nuova programmazione turistica proprio in questi giorni la giunta regionale ha licenziato il nuovo piano triennale del turismo che attualmente in commissione e in discussione e è stata lanciata anche un'idea che noi come conf commercio peso rubino avevamo lanciato da tempo cioè la creazione di un'agenzia regionale per il turismo e l'internazionalizzazione che è l'elemento che caratterizza la nuova gestione politica del nuovo governo regionale l'agenzia regionale sulla quale noi siamo assolutamente d'accordo perché crediamo sia necessario riportare ad unità le politiche del turismo nella nostra regione dove c'è molta confusione le priorità sono quelle di dotare e di far uscire dall'isolamento che vive la nostra regione la regione marche le priorità sono quelle di rimettere al centro una potenzialità turistica che finora è stata diciamo vissuta solo relativamente di risulta rispetto ad altri settori che erano stati trainanti e la priorità è quella di vitalizzare un'entroterra e tutta una serie di patrimoni che noi abbiamo a livello di borghi territori di tradizioni enogastronomia paesaggio ambiente che sono oggettivamente un patrimonio che potrebbero portare la nostra regione ad essere una regione all'avanguardia dobbiamo crederci e dobbiamo farlo con progetti precisi la legge sull'albergo diffuso la legge dei borghi diffusi non è altro che l'itinerario della bellezza la nostra storia è un patrimonio che sta piano piano purtroppo perdendo la sua potenzialità che anzi per tante amministrazioni diventa un costo perché la messa in sicurezza di abitazioni private la messa in sicurezza di vie sono un posto un costo che gravitano sui bilanci dei comuni noi vorremmo invece un investimento in porti imponente pubblico e privato privato perché l'imprenditorialità è sempre del privato ma pubblico perché credi in un circuito alternativo rispetto al turismo che abbiamo conosciuto fino ad oggi che apre le vie dei nostri centri storici riapre la potenzialità rilancia la potenzialità dei nostri borghi interni e con essi tutto quello che è il patrimonio che gira intorno a gravita intorno. Il momento che ci stiamo apprestando a quella che può essere potenzialmente una vera ripresa speriamo con questa situazione dei vaccini che stiamo portando avanti con l'avvicinazione dell'estate dove comunque la linea dei contagi dovrebbe di per sé attenuarsi io credo che ci possano essere buone possibilità di quello che io definisco un bel rimbalzo della nostra economia soprattutto di quella legata all'accoglienza al turismo proprio per quei settori che hanno più sofferto in questi mesi la ristorazione ecco io voglio sperare auspicare un buon rimbalzo di attività da qui alle prossime settimane quindi questa presenza stasera così diciamo numerosa diciamo dell'amministrazione regionale a questo evento qui a Fanno vuole proprio essere anche questo la testimonianza di incoraggiamento ma anche un se vogliamo anche un buon auspicio di un buon ripresa di attività che indubbiamente ci sarà sono molto fiducioso in questo. Prende via la sedicesima edizione della scuola per imprenditori di compartigianato ancona pesaro e urbino in collaborazione con la camera di commercio delle marche e il dipartimento di management dell'università politecnica delle marche sedicesima edizione che presenta alcune novità come l'istituzione di un nuovo corso dedicato ai giovani imprenditori mercoledì in prima serata alle 21 e 30 potrete assistere allo speciale realizzato all'evento che nel frattempo vi anticipiamo con le interviste al segretario compartigianato ancona pesaro urbino marco pierpaoli e al rettore dell'università politecnica delle marche gialluca gregori il focus appunto dopo 16 anni continua ad essere sul tema delle micro e piccole imprese questo perché questa tipologia di organizzazioni rappresenta l'ossatura del sistema economico direi e sociale regionale in questa prospettiva queste imprese hanno necessità di dotarsi di strumenti che siano in linea con l'evoluzione tecnologica e con quello che il mercato richiede il contesto non è facile i dati che abbiamo consentono di evidenziare dal 2008 al 2020 una perdita del pil direi di tutta l'italia centrale si pone una problematica che non è più solo del mezzogiorno ma anche una frattura italia centrale teniamo conto che per le marche il pil è diminuito in questo periodo del 18 per cento circa riuscire a dare strumenti per ripartire il tema programmazione diventa fondamentale e da questo punto di vista anche infondere ottimismo perché dobbiamo pensare che l'economia ripartirà e quindi le nostre imprese devono essere pronte in questo momento di crescita che deve necessariamente esserci auspicando una ripartenza come già si sta evidenziando tra fine aprile e maggio per tutte le categorie perché ricordiamoci alcune categorie ancora oggi stanno lavorando questo è uno strumento indispensabile per resistere a un contesto economico fortemente mutato qui oggi dobbiamo dotarci di nuovi strumenti di nuove competenze soprattutto per resistere a una situazione veramente complessa noi come associazione di categoria stiamo come confartigianato stiamo evidenziando come bisogna spostare la tassazione un anno bianco sulla tassazione spostare il tema relativo ai pagamenti dei mutui dobbiamo ricreare quelle condizioni per un fare impresa in Italia quindi questo è indispensabile oggi è del tutto evidente che però servono competenze nuove quindi parliamo di un'esperienza con docenti provenienti da tutta Italia di grandissimo livello che daranno quelle competenze quegli strumenti per cui bisogna prepararsi e questo è fondamentale oggi in questo in questa situazione dove veramente fare imprese è molto complesso e quindi confartigianato da questo punto di vista mette gratuitamente a disposizione dei nostri imprenditori in collaborazione con la camera di commercio delle marche il dipartimento di management dell'università politecnica delle marche tutti quegli strumenti quelle competenze per provare a resistere 1560 all'unni controllati con il rintracciamento di 26 positivi sono i numeri della nuova tornata di screening organizzata dall'amministrazione comunale che nei primi tre giorni di attività ha interessato le scuole medie da domani invece i tamponi rapidi saranno destinati alle scuole superiori pesaresi si comincia al campus per gli studenti del mamiani del bramante al cecchi e al mengaroni mentre mercoledì sarà la volta del marconi e del benelli del santa marta e poi ancora del mamiani lo screening proseguirà poi anche nelle giornate del 20 e del 21 aprile e la stagione balneare 2021 inizia il primo maggio e terminerà il 3 ottobre e quanto emerge dalla delibera sulla gestione delle acque di balneazione per la stagione appunto balneare 2021 approvata questa mattina dalla giunta regionale su proposta dell'assessore all'ambiente stefano guzzi il quale ha espresso soddisfazione per l'anticipazione dell'apertura della stagione volta a incoraggiare la ripresa delle attività del settore della balneazione la qualità delle acque è stata valutata eccellente per l'86,2 per cento e buona per l'8,3 per cento delle 254 acque di balneazione i controlli sono stati effettuati come di consueto dall'arpam via alle domande per il bando della regione che assegna 950 mila euro di contributi a fondo perduto allo sport direttantistico lo comunica per la lega il consigliere regionale luca serfilippi ricordando inoltre il bando di 250 mila euro riservato alle piscine la presentazione delle domande potrà essere effettuata online sul sito della regione nella sezione contributo ripresa sport e la scadenza è prevista per venerdì 7 maggio alle ore 12 e ora la pagina sportiva del nostro telegiornale che apriamo come ogni lunedì per raccontarvi i risultati dei match del fine settimana male il calcio con le sconfitte di vis pesaro e alma juventus fano mentre per il basket la carpegna prosciutto pesaro torna a vincere contro la fortitudo ma la società bolognese ha presentato ricorso sentiamo tutti i dettagli quindi nel prossimo servizio a cura di edoardo razzi weekend amaro per il calcio locale con le sconfitte registrate sia dalla vis pesaro che dall'alma juventus fano i biancorossi sono stati sconfitti per 4 a 2 sul campo dell'arezzo mentre i granata hanno perso in casa un a 0 contro il modena per quanto riguarda la vis mister di donato non si è detto felice della prestazione data dalla squadra che ora vista la vittoria del legnago si ritrova a soli tre punti dalla zona play out la fine è stata una sconfitte meritata abbia sbagliato tutto quello che c'era sbagliare da dal gioco dall'approccio dai duelli alla fine quando vai in campo e perditi tutti duelli è stato scontato un passo falso ci può stare ci sono giocati il primo match ball adesso ci dobbiamo far prendere dall'ansia dalle paure perché ne abbiamo un altro domenica in casa che dovete non dobbiamo sbagliare non è stata la solita vi spesano non siamo stati noi soliti la solita squadra battagliera abbiamo avuto la fortuna di andare di fare il primo gol e poi ancora una volta un nostro errore ci ha tagliato le gambe e dobbiamo cercare appunto di lavorare il più possibile tutti insieme perché in questi periodi abbiamo avuto un po di di defezioni però dobbiamo cercare di di lavorare con un unico obiettivo che è la vittoria di domenica zero punti anche per l'alma juventus fano che sbagliando un calcio di rigore nella ripresa non riesce a pareggiare arriva così la prima sconfitta per il nuovo allenatore tacchinardi che dispiaciuto commenta il match così è una vittoria nel modena è meritata meritata perché hanno fatto hanno fatto un calcio d'angolo in una situazione che sono stati sicuramente ingenui però una squadra adesso non so quanto possa essere oggi in classifica se terza o quarta però chiudere gli ultimi 20 minuti a a fare le barricate dietro vuol dire che la mia squadra con tutti i limiti che ha perché può avere anche qualsiasi limiti meritava nettamente di più abbiamo sbagliato un rigore che poteva veramente girare la girare la partita io la mia squadra sono qua da 20 giorni ma mi sto cercando di fargli capire che tutte le malizie possibili immaginabili perché è una squadra che deve crescere sotto tanti aspetti però sono ragazzi eccezionali hanno fatto per me una una grandissima partita e ripeto la la sconfitta è è meritata ma ma la grandissa torna invece la vittoria la carpegna prosciutto basket pesaro dopo cinque sconfitte di fila sabato ha battuto in trasferta la fortitudo bologna per 79 a 77 guadagnando due punti importanti in chiave playoff una gioia ritrovata ma per la quale non sono mancate polemiche si attende infatti il pronunciamento del giudice sportivo in merito al ricorso presentato dalla fortitudo la società bolognese ha infatti contestato una mancata osservanza del regolare protocollo anticovid riguardante il giocatore della vl justin robinson ancora lo sport perché nel nome di giovanni ranocchi gli angels vanno avanti anche per onorare la memoria dello storico main sponsor il football americano pesarese che quest'anno festeggia i suoi 40 anni gli ultimi 15 con francesco fabbri alla presidenza è pronto per la partenza del campionato di terza divisione che vedrà impegnata la squadra per la prima volta al prossimo 25 aprile in casa contro i dax lazio vediamo quindi le interviste dei protagonisti che sono intervenuti ieri alla presentazione della squadra a volte il coraggio è anche essere sordi me lo diceva giovanni ranocchi con la sua filosofia e la voglia di andare avanti consapevole che una rana sorda poteva vincere di tutto qui stiamo andando avanti perché dobbiamo continuare con tutte le procedure covid che ci hanno detto e quindi noi di ranocchi angels siamo pronti siamo pronti facendo i tamponi durante gli allenamenti siamo pronti a fare i tamponi durante le partite siamo pronti anche ad andare via con due pullman perché non possiamo prenderne uno perché siamo più di 60 e quindi non riusciamo a prendere due pullman quindi come ho detto prima in presentazione devo ringraziare la famiglia ranocchi devo ringraziare gls pesaro banca generali aves perché sicuramente grazie al loro apporto che da 15 anni che ci stanno aiutando da 15 anni e quest'anno più che mai riusciamo a superire tutte queste problematiche anche i covide che sono talmente economiche che capite anche voi com'è comunque il football pesaro continua e non si fermerà nessuno. Lo staff è formato da un gruppo di allenatori ormai che sono lavorano insieme da anni tra cui chiaramente il nostro capo allenatore Giorgio Gerbaldi che è anche un grande difensore allenatore delle difese ma ormai in questa nuova veste da un po' di anni anche se chiaramente ha più un occhio per la difesa. In attacco abbiamo Mel Galli che si è riconfermato ormai per il terzo anno con gli Angels in quanto lui ormai si è trasferito in Italia quindi per noi è una risorsa importantissima. Chiaramente la sua mentalità americana delle volte è difficile per noi da gestire però ha una grande passione che trasmette ai ragazzi in maniera incredibile. Con lui in attacco ci siamo io e mio fratello Andrea Angeloni che comunque lo aiutiamo traduciamo delle volte perché chiaramente lui parla solo americano però io e mio fratello è tanti anni che ormai alleniamo in attacco e quindi oltre che giocare quindi conosciamo bene i ragazzi le situazioni del campionato italiano. In difesa invece Enrico Leonardi si è riconfermato defensive coordinator chiaramente aiutato anche da Giorgio e da Federico Di Bari che anche lui è tanti anni che è con noi quindi un buono staff. Fare programmi è difficilissimo non sappiamo molto delle realtà avversarie atteso che l'anno scorso sia giocata per alcuni solo la prima partita tra cui noi e poi il campionato è stato sospeso per altri nemmeno iniziò il campionato per cui anche a livello di video di scouting eccetera siamo fermi possiamo dirlo quasi a due anni fa. Fare pronostici per tanto è difficile guardiamo a noi ormai il primo incontro è vicinissimo quindi tra due settimane saremo in grado di dire qualcosa di più. Di certo la prima partita sarà qui al campo scuola domenica 25 aprile alle 14.30 contro i Dax Lazio una squadra decisamente forte che addirittura due team uno in prima e uno in terza divisione in quello in terza divisione schiera i giocatori più giovani ma anche alcuni esperti anziani che per motivi di tempo non riescono a fare tutti gli allenamenti della squadra in prima divisione quindi sicuramente un avversario ostico tra l'altro miei concittadini sono noti nel mondo del football americano italiano per la loro diciamo cattiveria agonistica quindi sicuramente sarà una partita decisamente dura ruvida. Abbiamo dovuto interrompere l'anno scorso con il Covid purtroppo oggi siamo il 25 marzo è passato da un anno da un anno e un mese la scomparsa di Giovanni però voglio dire la presenza della persona è fortissima e quella passione che lui aveva l'ha un po' infusa in tutti noi quindi compreso le sponsorizzazioni e quindi gli angels sono stati uno degli sport dai quali noi siamo ripartiti sia dall'attività lavorativa e quella sportiva e quindi al di là di vedere un bel marchio che gira su questi insomma poi Arianna direbbe su questi bei ragazzi io dico su questi ragazzi e basta e al di là di questo c'è proprio questa questo link questo collegamento fortissimo che ormai ci lega al football americano da qui in avanti. Il babbo mi farebbe dire in culo alla balena che poi non c'è la traduzione in inglese come tanti tanti anni fa avevamo augurato anche la palla canestro e tante altre squadre perché appunto babbo è sempre stato legato allo sport di qualsiasi genere sicuramente gli angels era partito dagli angels con questo nome bellissimo quindi i nostri angeli con cui continuiamo ad andare avanti. E questa era davvero l'ultima notizia per il nostro telegiornale come ricordato poco fa questa sera in prima serata su Rossini tv alle 21 e 15 potrete vedere lo speciale realizzato a Pano il 9 aprile per quanto riguarda la conferenza sul turismo organizzata dalla Confcommercio Marche Nord. Questa sera quindi lo speciale in prima serata alle 21 e 15. e poi l'informazione torna puntuale su Rossini tv domani mattina alle 7 20 in diretta con una nuova edizione della nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito nel nostro telegiornale vi auguriamo un buon proseguimento di serata su Rossini tv.